Sergio Abramo Il presidente Giuseppe Cosentino per aver gettato delle solide basi per la riscossa dell'amata squadra di calcio nella convinzione che alla fine di questa stagione calcistica tutti i tifosi potranno festeggiare insieme la promozione. Io divento tifoso vedendo loro, mi hanno trasmesso questa passione, a parte la passione che ho avuto anche nel passato di giocare a calcio, ma loro ti trasmettono veramente una grande passione. Lo dimostra anche questa mostra che hanno fatto, dove tengono custoditi gelosamente queste maglie del glorioso Catanzaro degli anni 80-90. Onestamente sì, un museo all'interno del nuovo stadio comunale, quello che verrà ristrutturato sarebbe una bellissima cosa, ma soprattutto per dare soddisfazione a loro. Hanno passato tutta la loro vita dedicata a questa squadra del calcio, è il motivo per cui noi cercheremo di dare anche risposta a loro. Credo che questo finanziamento, voluto anche dal presidente della regione Scopelliti, vada proprio in un momento come questo di grande crisi anche sul bilancio del Comune. è stata una boccata d'ossigeno che permetterà, magari a fine anno, sicuramente andremo in C1, di avere lo stadio anche rinnovato.